Civil Week 2024, siamo a Legnano nella sede dello IAL Lombardia, sede ovviamente di Legnano. Qui si imparano tanti utili mestieri, tra cui tutti quelli che fanno parte della ristorazione. Qui con noi c'è Stefano, che è il responsabile del progetto formativo. Che cosa succederà alla Civil Week? Allora, questa sera noi qua abbiamo i ragazzi del percorso IFTS, quindi per la formazione professionale è il loro quinto anno e questa sera presenteranno un modulo formativo legato allo street food. Quindi hanno preso elementi classici dello street food e li hanno rivisitati collocandoli in Lombardia, per cui avremo il kebab di Mondeghili, delle cose un po' particolari. Per loro è un momento formativo, nel senso che hanno questo modulo con uno chef, un professionista che li ha seguiti, hanno lavorato 12 ore in questi due giorni e adesso appunto fra poco arriveranno con le loro portate, le loro pietanze. Abbiamo invitato i loro familiari, amici, conoscenti, abbiamo ristretto un po' le persone, non siamo riusciti ad aprire a tutta la cittadinanza come avremmo voluto, però abbiamo pensato di... Ci saranno altre occasioni? Come sempre, noi siamo molto presenti sul territorio, siamo coinvolti molto spesso dall'amministrazione comunale che appunto ci chiama per partecipare ad occasioni di questo tipo. Infatti parteciperà anche a questa? Sì, noi li aspettiamo, ci hanno detto che dovrebbero partecipare, quindi di solito il sindaco e l'amministrazione quando possono passano a trovarci. Grazie Stefano, intanto noi siamo immersi in profumi fantastici e abbiamo qui con noi Valentina che è la responsabile della comunicazione di IAL Lombardia Sede Legnano e vorremmo sapere da lei perché questa idea di partecipare proprio alla Civil Week. Buonasera, grazie. Abbiamo deciso di partecipare quest'anno, questo è stato il primo anno in cui abbiamo partecipato e abbiamo deciso di farlo perché la Costituzione siamo noi, integriamo perfettamente il motto quest'anno della Civil Week e sia con l'articolo 4 che con l'articolo 35 della Costituzione, quindi il diritto al lavoro, il diritto alla formazione per i lavoratori è un qualcosa che ci incarna profondamente, che incarna i valori dell'OIAL Lombardia Sede di Legnano e quindi di tutte quante le altre sedi. Abbiamo scelto anche il percorso IFTS perché è il percorso che coniuga perfettamente sia la parte professionale che quella didattica. Infatti i ragazzi nel percorso dei 12 mesi lavorano sostanzialmente in aziende da noi selezionate o comunque che noi seguiamo e allo stesso tempo poi fanno un percorso di formazione, di alta formazione con professionisti di prestigio e lo fanno qui da noi a scuola. Quindi ci sono tre settimane al lavoro in apprendistato e una settimana a scuola e quindi abbiamo deciso di volerli presentare, di voler celebrare questo momento e questi ragazzi. Ottima idea direi e quindi adesso farei una carrellata per far vedere i protagonisti veri di eventi come questi che sono super ordinati, fantastici, bellissimi e chiedo a uno di voi a caso, non ci siamo messi d'accordo prima, com'è stato preparare questo evento? Allora, è stato molto particolare perché abbiamo potuto interfacciarci in questo modulo di street food che non eravamo abituati a fare logicamente e è stato molto divertente. Una domanda brucia a pelo a tutti, sapete che cos'è il volontariato? Qualcuno di voi ha mai fatto volontariato, ha intenzione di farlo o è curioso? Tu? Sentiamo un po'? Come ti chiami? Brian. Brian, dici tutto. Non ho mai fatto volontariato ma secondo me è una cosa carina che... Cioè, si dovrebbe fare comunque. Se non si ha problemi economici o vari, il volontariato si fa spesso anche dopo l'età avanzata, secondo me. Grazie, quindi accogliamo anche noi l'augurio di tutti loro, di tutti i loro giovani e insomma vi invito a provare a diventare volontari anche voi, anche se so che voi farete... A molti di voi state già lavorando, state facendo un lavoro molto impegnativo, ma avete insomma tanta strada da fare e grazie per la vostra testimonianza perché imparare mestieri così utili serve davvero a tutti. Grazie, diciamo tutti insieme buona Civil Week! Buona Civil Week!